Eccoci a Geyser, questo è solo un messaggio. Meglio non vedere quanta gente c'è. Uh, tanto. Si può rancicare fin da su. Ah, si può rancicare. Ah, spara, spara. C'è un po' puzza di zolfo. Non sarò io. C'è anche un ottimo centro, un po' commerciale. Sbuffi, sbuffi, sbuffi. Lo struppo. Cosa mi passa davanti? No, andiamo di là. Perché questo qua ogni tanto fa... Giusto in tempo. Questo ha lasciato una bella nuvola di vapore. Quella originaria. Quindi questo è il vero e solo Geyser in Iceland? In Icelandic è un nome. Non un po' di parole. Come stai a vedere? 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì Grazie a tutti Grazie a tutti